Cambiamo sport nei nostri appuntamenti in cui chiacchieriamo e facciamo conoscere sia gli atleti che le società del territorio canavesano, oggi c'è di entrare nel mondo del basket. Stiamo parlando del Lusac Rivarolo Basket, qua è con noi e Alessandro Castagna. Ciao Davide. Abbiamo aumentato le bimbe, sono passati da una squadra due stagioni fa, due nella stagione scorso e quest'anno giocheremo contro le squadre femminili. Usciamo da Rivarolo adesso ma domani o dopodomani essere comodi a Rivarolo con i pianti ruoli.